Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Garcini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano 3 km di coda per lavori tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, sempre in direzione Bologna, tratto chiuso per lavori tra Aglio e Ronco Vilaccio fino al 28 febbraio. Sulla strada regionale 2 via Cassia, senso unico alternato per il ristringimento della carreggiata tra i km 278 e 900 e 279 e 500 nel comune di San Casciano Val di Pesa. Per la viabilità cittadina Firenze via Santa Marta resterà chiusa fino al 16 maggio da via Ernesto Rossi a via della Pietra. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!